Nell'abbraccio del Padre Meditazione quotidiana per conoscere, amare e onorare Dio Padre La vita eterna Alzando gli occhi al cielo, Gesù disse Padre, glorifica il tuo Figlio Tu gli hai dato potere su ogni essere umano Perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato Questa è la vita eterna Che conoscano te, l'unico vero Dio E colui che ha mandato Gesù Cristo Il Padre ha dato al Figlio il potere su ogni essere umano Sappiamo di che tipo di potere si tratta È il potere dell'amore Quando i fedeli si inginocchiano davanti a Gesù Si inchinano davanti a un Re Che ha dato la sua vita per loro Tenendo così il potere sui loro cuori Invece di servire il Signore per paura della sua maestosità Ci aderiamo a Lui con grande amore Il Padre ha affidato a noi uomini il proprio Figlio Per concederci attraverso di Lui la cosa più preziosa che possa darci La vita eterna Nel Figlio riconosciamo il Padre Il Figlio ha salvato dalla schiavitù il prezioso tesoro del Padre L'umanità E ha custodito coloro che gli sono stati affidati Così che nessuno di loro è andato perduto Tranne il Figlio della perdizione Conoscere l'unico vero Dio significa amarlo Conoscere Gesù Cristo è amarlo Perché è stato mandato dal Padre Tutto questo ci viene rivelato dallo Spirito Santo Che è inviato dal Padre e dal Figlio Grida nei nostri cuori Abba Padre La vita eterna Inizia quindi già qui Nel nostro peregrinaggio in questo mondo Quando riconosciamo E rispondiamo all'amore di Dio Qui ancora con dei limiti Là nella visione beatifica di Dio Senza limiti Secondo la misura che Dio ha predisposto per noi nel suo amore E in base alla nostra risposta a Lui E in base alla nostra risposta a Lui